Per quanto riguarda uno dei temi dell'informazione spinosa degli ultimi giorni, la TV greca chiusa, che cosa può fare l'Europa? Lei come commenta queste notizie? Io personalmente ho preparato un'interrogazione alla Commissione per fare due domande e cioè, primo, sono stati rispettati i diritti dei lavoratori? Io credo di no, perché è stata una decisione che per modalità e tempistica ha veramente distrutto un'azienda e messo sull'astrico decine, centinaia, migliaia di lavoratori e altrettante famiglie. Ma secondo, credo che di fatto sia stata anche un po' violata la libertà di informazione attraverso un provvedimento così duro e così immediato senza nessun rispetto delle regole minime. Quindi ho presentato un'interrogazione ma probabilmente, anzi quasi sicuramente, nella prossima sessione di Strasburgo ci sarà un dibattito e questo credo che sia indispensabile.